grande novak grandissimo per forza è il tenista più forte di tutti non ha paura di niente novak pensate che ad aprile aveva anche sfidato il covid giokovic io non mi vaccino e segue il guru che dice la pandemia un periodo eccitante tu pensa lui il guru come saranno eccitati questa settimana che nella pandemia ci sono entrati con tutte le scarpe dunque nova giokovic positivo al coronavirus dunque qualche giorno fa giokovic aveva organizzato un bel torneo con altri tennisti un torneo vero con premiazione una bella premiazione la sera della premiazione sono anche andati a festeggiare in discoteca una vera premiazione collettiva tamponi d'oro per tutti per lui per gli altri tennisti per le mogli gli allenatori la cattapalle sembrava di essere alla codogno cap dalla terra rossa alla zona rossa è stato un lampo ora guardate lì senza mascherine senza distanziamenti tutti a urlare col braccio alzato sembra una manifestazione riuscita del centro destra ma il covid è così insidioso è facile sottovalutarlo non sai mai come prenderlo cioè così te lo prendi e si è capito però per il resto ragazzi le informazioni che abbiamo sono contraddittorie cioè non più necessario dopo tampone negativo per certificare la fine della malattia nuove regole dall'oms ora pare che bastino tre giorni senza sintomi per essere guariti beh naturalmente questo vale per l'oms di ginevra perché invece il direttore dell'oms italiana dice il contrario oms guerra più prudente continuare con i due tamponi negativi ma in buona sostanza i doppi tamponi servono o no uno che in casa da un mese aspettando che gli facciano secondo tampone cosa deve fare e ieri è uscita anche quest'altra notizia scusate coronavirus gli anticorpi prodotti dai guariti diminuiscono in tre mesi e quindi che cazzo facciamo stiamo in casa a vita usciamo infettiamo tutti andiamo a giocare con gioco vici nel frattempo senti cosa dice remuzzi uno dei migliori ricercatori italiani fatemi vedere remuzzi remuzzi i nuovi casi di coronavirus non sono contagiosi oh bene dai i nuovi casi non sono più contagiosi il virus ci ha mollato magari è diventato meno aggressivo no sto cazzo no ricciardi oggi record mondiale casi virus non è cambiato ma com'è possibile che non ci siano certezze su niente e dal primo caso di febbraio che non capiamo nulla febbraio perché ho detto febbraio oms il virus forse già in italia prima di quanto si pensasse lo ha detto il direttore per l'emergenza dell'oms mike ryan in merito alla scoperta della presenza del virus nelle acque fognarie già a dicembre a dicembre il virus era già nelle fogne io non voglio nemmeno immaginare come abbiano fatto a scoprirlo ecco fratelli che siete a casa quando siete depressi perché ritenete che il vostro lavoro non vi valorizzi pensate un po a mike ryan che di mestiere fa i tamponi ai vostri stronzi di sei mesi fa ragionateci sopra comunque sul covid da quando è finito il lockdown stiamo tutti facendo un po gli sboroni e luca ricolfi stiamo riaccendendo l'epidemia per salvare il turismo ora ricolfi è un sociologo insegna analisi dei dati all'università di torino dice che ci informano poco per salvare la stagione turistica non è male in fondo sì è vero a settembre rischi la terapia intensiva ma almeno cazzo ci arrivi abbronzato ma cos'è diventato il covid adesso ustica ma perché secreti secretano ma cos'è in sabbi ma guardate bologna e mondragone coronavirus da mondragone a bologna covid torna a far paura per non parlare della germania germania emergenza matatoio oltre mille contagi si valuta nuovo lockdown nuovo lockdown ma non se ne esce apri chiudi apri chiudi apri il covid è come il gas quando esci di casa non ti ricordi se l'hai aperto se l'hai chiuso non si capisce più niente sai forse chi può fare un po di chiarezza ecco l'unico che forse è lui franco locatelli è il più equilibrato di tutti e anche in questa fase stupisce per la saggezza coronavirus locatelli l'attenzione deve restare altissima ora se la regia mi aiutasse col collegamento io andrei un attimo di là a sanificare lo zanichelli un attimo